Sono veramente soddisfatto di poter annunciare il corso relativo al linguaggio di programmazione Python. Il corso te lo presento in due modalità. Una di queste modalità la potrai seguire qui su YouTube e andando avanti settimana dopo settimana arriveremo fino alla fine del corso. L'altra modalità invece è quella che potrai seguire su Udemy. Qui sotto in basso nelle descrizioni ti metto il link per linkarti proprio su Udemy. Udemy avrà un costo però avrai il corso di Python completo dall'inizio fino alla fine quindi tutto quello che riguarda le basi del linguaggio di programmazione Python. Io sono Fulvio Mariola ho iniziato ad interessarmi di informatica da più di vent'anni e dal 2005 ho trasformato la mia passione da hobbista appassionato a un lavoro vero e proprio come professionista. Andiamo ad affrontare un altro concetto molto importante per quanto riguarda il linguaggio di programmazione Python ma per quanto riguarda quasi tutti i linguaggi di programmazione che utilizziamo ovvero quello di capire o interpretare bene i dati che noi inseriamo verso la nostra applicazione. Come ti ricordi qui abbiamo fatto un cast dell'input che abbiamo inserito e qui abbiamo dopo che abbiamo fatto il cast l'abbiamo inserito in una variabile calcolare valore e poi l'abbiamo stampato. Se lancio il programma o l'applicazione metto 15 e lui mi scrive che in 15 giorni ho 360 ore. Quale potrebbe essere ad esempio un errore di un qualcosa che non ha senso? Beh se lancio il programma inserisco ad esempio un altro valore meno 10. Meno 10 per lui ha senso cioè non va in crash l'applicazione perché per lui è un numero intero i numeri interi vanno bene sia i numeri positivi che i numeri negativi quindi per lui va bene invio e mi dice che in meno 10 giorni ci sono meno 240 ore. È chiaro che è questo valore non ha senso perché non ci sono meno 10 giorni quindi bisogna anche fare delle restrizioni per quanto riguarda l'applicazione che abbiamo creato. Oppure ancora di più se rilancio il programma invece che scrivere un numero intero vado a scrivere un testo ad esempio scrivo pippo. Come vedi lui va in errore perché adesso piuttosto che inserire un numero perché lui qui va a castare la funzione in intero però quando lo va a castare vede che è un insieme di caratteri e quindi lui non gli accetta e va in crash. Quindi come vedi queste sono due problematiche. La validità dell'input. Quando vogliamo che il valore abbia senso ed inoltre sia un valore corretto intanto dobbiamo vedere che quando il valore inserito non ha senso ovvero nel nostro caso è stato un valore negativo ma non esistono dei giorni che sono negativi o delle ore che sono negative quindi di fatto non ha senso. Quindi gli dovremmo dovremmo ristringere la nostra applicazione e dirgli guarda accetta i valori che sono superiori a zero. Oppure quando il programma va in crash come nel nostro caso piuttosto che inserire dei numeri abbiamo inserito un testo ed è andato in crash. Quindi tali errori potrebbero essere anche un rischio per la sicurezza della nostra applicazione. In questo caso è una semplice applicazione ma un qualcosa del genere potrebbe essere anche inserito in un programma molto più grande. Come tu sai il programma o l'applicazione viene eseguita processo per processo riga per riga e noi adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di discriminare quindi di condizionare il valore per avere un risultato quantomeno corretto. Dove di fatto noi possiamo inserire questa condizione che dovrò assegnare alla mia applicazione? Lo posso inserire prima della funzione dopo della funzione? Quindi dove possiamo inserire la condizione del valore che poi noi utenti lo user andrà ad inserire in questa applicazione? Beh io credo che sia meglio inserirla all'interno della funzione. Quindi possiamo andare qui nella funzione e andiamo qui all'inizio della funzione. Vediamo come sono gestite le cose di questa funzione. Le condizioni appunto sono delle espressioni che dovranno avere un valore e verificheranno in maniera booleana se il valore di fatto è true o false. Non dovranno fare nient'altro che questo. E qui ci sono le differenti situazioni in cui il valore può essere uguale uguale quindi vero oppure falso oppure minore di, minore uguale di, maggiore di o maggiore uguale di. A noi qual è la cosa che ci interessa di più? Intanto il numero di giorni che abbiamo inserito. Quindi cosa utilizziamo per diciamo restringere la mia condizione di valori che inserisco? Beh uno dei modi utili per fare questo è proprio utilizzare lo statement ovvero le condizioni che posso utilizzare che sono if e else. Quindi qui scriviamo if. Cosa dovrò verificare? Che il numero di giorni, io quindi andrò ad inserire un numero, dovrà essere maggiore di zero. Due punti. In questo modo io sto già restringendo i valori che inserisco ovvero che qualsiasi valore che vado ad inserire dovrò verificare che di fatto questo numero è maggiore di zero. E cosa faccio se il numero è maggiore di zero? Ovvero dichiarerò che il valore che inserisco è corretto perché supera lo zero. Se è minore di zero non è corretto. Quando vado sotto al return faccio una indentazione quindi con un tab della nostra tastiera. Cosa faccio? Oltre a fatto di rendere più ordinato il linguaggio che sto leggendo quindi anche la prossima persona che dovrà analizzare il nostro codice sa come leggerlo ma è anche più strutturato quindi stai capisci immediatamente qual è la cosa che fa l'applicazione quando ho inserito un numero di giorni e va a verificare se questo valore è valido oppure no quindi adesso lanciamo il programma. Inserisco il valore ad esempio se inserisco 15 il valore è corretto e mi dice che in 15 giorni ho 360 ore. Rilancio il programma adesso invece inserisco un valore non corretto magari inserisco meno 12 e come vedi ci dà un risultato non ovvero non continua l'applicazione perché la condizione che gli ho dato è false e quindi lui non va avanti e ci dà non ma noi cosa vogliamo fare però quando python ti dice guarda se il valore che ha inserito non è maggiore di zero quindi non intende solo zero cioè anche zero non è valido perché significa solo maggiore di zero quindi da uno all'infinito o almeno dai numeri che sono concepiti dal tuo computer e va bene se sono inferiori all'uno quindi da zero in giù quindi da zero a tutti i numeri negativi ti dà non allora noi che facciamo utilizziamo un'altra funzione dello statement della condizione if else che è appunto l'else quindi nel caso in cui questo valore non è maggiore di zero allora farò un return e gli inserirò direttamente una stringa ovvero hai inserito un valore negativo la conversione non va bene quindi adesso la nostra applicazione è diciamo più corretta quindi ancora lanciamo l'applicazione e ci dà un errore esatto perché ci dà un errore beh perché chiaramente anche in earth quando finisco l'ex a differenza di altri linguaggi di programmazione dovrò mettere due punti ok adesso rilancio app adesso ci dice quante ore ad esempio 12 e mi dice che sono 288 ore la rilancio di nuovo e scrivo ad esempio meno 23 quindi lui va a verificare che il numero giorni non è maggiore di zero ma è o zero o inferiore a zero come in questo caso meno 23 invio e mi dice hai inserito un valore negativo la conversione non va bene chiaramente quindi andiamo a vedere meglio cosa ho scritto per quanto riguarda l'utilizzo di queste parole chiave quindi sono delle altre parole che ovviamente non puoi utilizzare come variabili perché sono keyword o parole chiave e qui vedi quali sono gli operatori di comparazione in python quindi come ti avevo detto gli operatori di comparazione sono questi quindi che possono essere utilizzati in quest'altro modo ovvero x uguale y x differente da y x maggiore di y o x minore di y e così via nell'altro caso invece vediamo operatori aritmetici in python ovvero i valori che posso utilizzare per fare delle semplici operazioni matematiche ad esempio se devo fare una somma una sottrazione moltiplicazione divisione il calcolo del modulo poi vedremo in seguito che cos'è il modulo oppure altri valori che vedremo in seguito adesso ti farò vedere proprio come lui ti dice che i valori sono true e false ad esempio prima di numero di giorni facciamo un check un controllo di quello che sto scrivendo quindi se mettiamo check numero di giorni maggiore di zero quindi vediamo se veramente è quello che ti dico quindi che if else effettivamente scrivono true o false quindi stampiamo questa espressione invio se scrivo 13 invio e come vedi la prima cosa che mi scrive dopo 13 è true ovvero la stampa di numero di giorni ad esempio se lo faccio invece con un valore negativo scrivo meno 12 ovviamente mi scriverà forse poi come ti avevo detto di fatto è un valore di tipo boolean ok lo possiamo anche vedere da python che è boolean e come faccio a vederlo possiamo fare così ovvero togliamo il print e inseriamo questo valore all'interno di una variabile quindi check variabile uguale non check maggiore di zero adesso gli diamo una funzione di python ovvero il tape aperta e chiusa d'onda e metto check bar e vediamo cosa ci dice quando lanciamo il programma lanciamo il programma ad esempio 13 e non me l'ha stampato chiaramente perché non gli avevo aggiunto il print se perché tape check mi dà un valore che però non viene stampato per stampare bisogna dargli appunto la funzione di stampa che è print quindi print tape check bar ok adesso lo lancio 12 ad esempio 12 giorni invio e come vedi la funzione tape check bar ovvero che sta valutando numero di origini maggiore di zero cosa è e ci dice che il tipo che è è boolean proviamo a fare qualche altro esempio proprio per verificare i meccanismi di tape ad esempio verificiamo se riconosce una stringa oppure riconosce un numero quindi cancelliamo questo facciamo print e vogliamo sapere che tipo di che tipo è ad esempio una stringa quindi non so non so inserisco numero lancio il programma e come vedi lui mi dice che è una stringa oppure non so ad esempio voglio sapere oltre al fatto che qui che ha riconosciuto che le mie condizioni if e else sono di tipo boolean ma vediamo anche se riconosce i numeri ad esempio se qui invece di inserire una stringa inserisco 12 vado in run e di fatto mi dice che è un int che è un intero oppure ad esempio vediamo se riconosce un numero di tipo float quindi non so mettiamo 12 virgola 23 lo lancio e come vedi anche qua ci dice che è un numero di tipo float quindi un numero con la virgola ma torniamo al nostro programma continuiamo ragionando con if else if else di fatto può essere gestito in maniera multipla analizziamo meglio il perché allora noi abbiamo visto che se ad esempio andiamo ad inserire un valore positivo lui mi dice qual è il suo risultato se andiamo ad inserire un valore invece negativo appunto lui mi dice guarda inserisci un altro numero perché questo valore non va bene è negativo però se ad esempio vado ad inserire un numero che diciamo non è negativo né positivo quindi è 0 beh di fatto se invio lui comunque mi scrive guarda ha inserito un valore negativo ma in realtà non è vero perché è un valore che non ha segno 0 non è né negativo né positivo ma noi con if else di fatto possiamo utilizzare un if else multiplo ovvero if else ma anche altre opzioni ad esempio in questo caso possiamo utilizzare quello che potrebbe essere un if else if come lo puoi chiamare però in python è chiamato proprio elif elif quindi con elif vi darò il valore che io voglio assegnarli ovvero che numero di giorni in questo caso è uguale a 0 due punti allora in questo caso in effetti come vedi ti dà errore c'è una cosa da capire allora quando io inserisco un singolo uguale questo non significa che numero di giorni è uguale a 0 questo è un'assegnazione ovvero significa che lo 0 va assegnato al numero di giorni in questo caso non lo fa perché è un elif però se stiamo programmando e stiamo scrivendo del codice noi scriviamo numero di giorni uguale a 0 noi stiamo associando 0 al numero di giorni ma noi in questo caso non lo dobbiamo associare noi dobbiamo verificare che il numero di giorni che già è un valore che io gli ho assegnato quando sto valutando numero di giorni è proprio 0 quindi per valere come uguale dovrò scrivere uguale uguale in questo caso allora veramente mi dirà il numero di giorni è uguale a 0 e qui mi dirà sì no è nella mia applicazione quindi in questo caso allora sarà return e hai inserito lo 0 per piacere inserisci un numero positivo valido e adesso andiamo a verificare se quello che abbiamo scritto è corretto quindi lancio il programma inizio prima con 12 invio e mi dice che in 12 giorni ci sono 288 ore poi in questo caso inserisco un numero negativo ad esempio meno 23 e lui mi dice guarda si stop e mi dice guarda hai inserito un valore negativo la conversione non va bene provo di nuovo e questa volta vado ad inserire lo 0 invio hai inserito lo 0 per piacere inserisci un numero positivo valido quindi come vedi ne ho inseriti due ne ho inseriti le ma ne posso inserire quanti ne voglio con if else questo valore if else ovviamente elif come vale per if come vale per else e come tutte le parole chiave non può essere utilizzato come variabile perché è una parola riservata in questo caso nello statement if else poi ci sono anche altri dettagli che possiamo vedere qui guarda se premi questa asticella premi sopra e vedi tutto il tuo programma meglio come vedi qui ho creato una un input numero uguale int input utente quindi ho associato la funzione int alla variabile input utente numero come vedi sempre con un uguale perché con uguale io faccio un'assegnazione non un uguale però io posso anche benissimo fare questo ovvero faccio copio int input lo inserisco qui e vale la stessa cosa cioè piuttosto che creare una variabile posso diciamo scrivere meno codice ed inserire qui input utente comunque lui farà lo stesso il casting e quindi trasformerà nel caso in cui io avessi inserito una stringa lui lo trasformerà in int bene fino adesso non ho avuto problemi per quanto riguarda l'inserimento dei numeri ho fatto una divisione nel caso in cui inserisco un numero che è minore di zero e lui entra nell'else quindi ha inserito un valore negativo la conversione non va bene oppure nel caso in cui io inserisco uno zero e allora va in elif che sarebbe per else if e mi dice guarda ha inserito uno zero e anche questo non è valido perché appunto come ho impostato nell'if io ho il bisogno di un valore che sia maggiore di zero ma noi adesso andiamo a vedere anche altri casi nei quali probabilmente il nostro programma non solo non gli sta bene il nostro inserimento dati ma va addirittura in crash apriamo intanto quello che prima ho chiuso come vedi per chiuderlo magari se vuoi vedere bene il tuo codice sorgente lo puoi digitare qui questa asticella poi per rivederlo sul run e lo rivedi un'altra volta ok lanciamo la nostra app quindi ha inserito un valore appunto 10 va bene 10 giorni o 24 ore ma vediamo nel caso in cui ad esempio io inserisco del testo se io inserisco un valore testuale e lancio il programma quindi premo invio lui va in errore va in errore come vedi perché non accetta il valore che gli ho inserito e mi dice valo a error invali letteral for int ovvero il nostro int come vedi non riesce a convertire un valore letterale in un valore numerico ma non solo per questo ma anche nel caso in cui ad esempio rilancio il programma non inserisco delle lettere ma inserisco dei numeri però che numeri inserisco ad esempio inserisco dei numeri con la virgola ad esempio 13,34 come vedi già te l'ho detto prima ma come vedi qui ho messo il punto ma stiamo parlando di un alfabeto americano quindi il punto sta per virgola non è come noi che utilizziamo il punto per scrivere mille diecimila o centomila il punto per noi è una virgola quindi sarebbe 13,34 se faccio invio e come vedi anche qui in questo caso come al solito input non riesce a trasformare o meglio a convertire questo numero che è 13,34 non riesce a trasformarlo in un numero intero perché la conversione che gli do è in int quindi tutti i valori che gli do in input utente dovranno essere quantomeno numeri interi e né del testo quindi delle lettere ma neanche dei numeri con la virgola possono essere convertiti in numeri quindi dobbiamo trovare una soluzione a questo problema per evitare questo problema allora andiamo a vedere cosa possiamo fare nella nostra applicazione nel nostro programma quindi gli dobbiamo dire che nel caso in cui io inserisco un valore che non è un valore di tipo intero quindi quello che lui vuole quello che lui si aspetta per poi darci un risultato giusto dovremmo come dire proteggere il nostro programma e fare in modo che non venga creata una cosa del genere ovvero che la nostra applicazione vada in crash ovvero sia quando inserisco un numero a virgola mobile oppure quando inserisco un testo quindi iconizzo questo e andiamo a vedere come fare possiamo fare in questo modo ad esempio noi l'input che ci viene restituito quando eseguo la definizione elabora giorni è un numero che sarà memorizzato dentro il parametro input utente adesso cosa faccio? vado a chiamare una funzione che va ad analizzare l'input utente ovvero il valore che io ho inserito all'interno di input utente come faccio? faccio punto quindi passo il mio parametro verso is digit in questo modo io andrò a passare il mio valore input utente in is digit come posso fare però per discriminarlo ovvero per dirgli di fare una cosa oppure farne un'altra? beh posso utilizzare il nostro if quindi if input underscore utente is digit due punti in questo modo gli posso dire che quando questo valore è vero cioè che input utente è di tipo intero allora andrò a calcolare i miei valori quindi appunto input utente numero uguale il cast quindi il casting di input utente quindi dal valore che è lo vado a convertire in un int e lo come ti avevo detto uguale significa assegno quindi assegno questo valore in input utente numero e poi vado ad elaborare input utente numero il valore che gli ho assegnato verso la funzione elabora giorni questo lo inserisco in calcola valore e poi lo vado a stampare è chiaro che posso sia inserire calcola valori quindi rendo il programma più lineare più logico ma potrei anche inserire al posto di calcola valore direttamente questa funzione però per il momento facciamo così che ci è più comodo quindi questo qui è il caso in cui lui mi ha dato un numero che io ho accettato quindi non mi ha dato né un numero negativo né un numero uguale a zero allora questo per me va bene però qual è il caso in cui a me questa cosa non sta bene il caso è questo nel caso in cui invece vado ad inserire appunto o un numero a virgola mobile un float quindi oppure un testo e allora in questo caso il risultato sarà un altro ovvero magari posso scrivere non so che il tuo input non è un numero non riesco ad eseguire il programma bene adesso andiamo a vedere se funziona il nostro programma che man mano che siamo andati avanti abbiamo compilato quindi andiamo qui run e vediamo quello che abbiamo creato qui vediamo questo questo orrendo errore che ci ha dato davvero il crash della nostra applicazione dato che gli ho inserito un valore che non è vario e rilanciamo il programma allora proviamo dall'inizio all'inizio inserisco un valore che va bene quindi un numero intero e va bene ci dice quante ore sono rilancio il programma vado a scrivere un numero negativo ad esempio meno 12 e lui ci dice guarda che il tuo input non è un numero non riesco ad eseguire il programma lo rilancio e scrivo zero e mi dice hai inserito lo zero per piacere inserisci un numero positivo andiamo invece dove non avevamo ancora risolto la nostra applicazione e vediamo se va in crash oppure no ad esempio andiamo ad inserire un testo quindi lettere piuttosto che numeri lancio il programma e come vedi il programma viene eseguito correttamente e ci dà un messaggio ovvero il tuo input non è un numero non riesco ad eseguire il programma proviamo anche con un numero a virgola mobile con un numero con la virgola insomma quindi non so 23.34 e anche qui stessa cosa il programma viene eseguito correttamente quindi non ho più il crash e appunto ci dice che il tuo input non è un numero non riesco ad eseguire il programma appunto ci dice che il tuo input non è un numero